Chiuso da due settimane si trasforma in una mini discarica, stiamo parlando del sottopasso Claudio di Fuorigrotta. Come spesso accade a causa delle piogge, una corsia del tunnel inaugurato per Italia 90 è stata interdetta al traffico veicolare. Dopo diversi giorni di pioggia però si sono accumulati i rifiuti trascinati dall'acqua piovana. Le caditoie all'ingresso del sottopassaggio di conseguenza si sono occluse perché coperte proprio dal pattume. In caso di ulteriori piogge quindi aumenta il rischio di allagamento del tunnel. In tutto questo il traffico veicolare soprattutto durante le ore di punta viene notevolmente rallentato poiché le auto si devono accontentare della sola porzione di galleria percorribile. Inevitabili così i disagi per i pendolari soprattutto dell'area occidentale che attraversano il quartiere tutti i giorni e che devono fare i conti anche con la corsia del tunnel chiusa.